Con noi, grande onore, il professore Piero Formica, al quale chiediamo, come abbiamo fatto prima anche nella tavola rotonda, quale può essere il ruolo dell'ignoranza creativa. Il ruolo dell'ignoranza creativa è molto semplice, è far sì che le persone possano passare dalla loro mappa della conoscenza alla mappa dell'ignoto, attraversando un sentiero che è quello dell'incertezza. Debbono quindi apprendere a diventare ignoranti creativi, a trasformare la loro conoscenza in qualche cosa che domani consenta loro di trasformare le nuove idee, il nuovo impreso e la nuova realizzazione. Quindi è una sorta di stretto dove convergono due grandi oceani, quello della conoscenza e quello dell'ignoranza. Le acque si fondono e le persone che transitano sono in grado di fare cose nuove in modo nuovo. Da un altro punto di vista è far uscire le persone dal pozzo profondo della loro conoscenza, portarle in superficie, far loro rivedere la luce, la luce e visione attraverso questa visione e entrare nel mondo dell'ignoranza che crea cose nuove. No, dico, vi rendete conto? Anche questo è il tuo futuro. Grazie mille.